Ciao, sono Andrea Scala e rappresento un team di professori e ricercatori dell'Università della Basilicata. La nostra proposta è XFlies. Vorremmo creare una startup innovativa per lo sviluppo di una tecnologia che trova le sue origini in un processo assolutamente naturale, la bioconversione. Intendiamo proporre gli insetti bioconvertitori quale fonte di proteine nobili allevandoli su sottoprodotti delle filiere vegetali attraverso un processo produttivo totalmente sostenibile che rientra pienamente nel concetto di economia circolare a scarto zero. Gli insetti rappresentano, grazie al loro contenuto in proteine e lipidi di alto valore biologico, la risposta alla crescente richiesta di tali nutrienti da parte di una popolazione mondiale in crescita esponenziale. Ma la vera forza del nostro progetto? Siamo noi! Siamo noi! Perché intorno agli insetti bioconvertitori ruotano molte delle nostre attività di ricerca, i cui risultati contribuiranno alla continua innovazione dei processi produttivi e nel contempo le attività di questa start-up saranno fonte di molecole e processi per lo sviluppo di tecnologie innovative utili all'uomo.